E qui c'è su Renault 4.TV, abbiamo Olek Cis. Allora Olek, tre sconfitte consecutive che, per non pregiudicando una grande stagione, hanno consentito alle inseguitrici di riavvicinarsi. Cosa pensi di questo momento? Domenica arriva a Brindisi. Nella partita di andata, carattere e maturità vi permettero di uscirne vittoriosi. Che partita ci aspetta? Quale sarà la chiave? La Virtus di quest'anno è un gruppo solido e coeso. Come pensate di poter uscire da questo periodo negativo? Cosa cambiano in ottica terzo posto queste tre sconfitte? Domenica. 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 Domenica.